Ciao a tutti amici e amiche, come state oggi? Io sono sempre Xioven Channel E oggi faccio un mini vlog da OBS Sono un po' inizialino con i capelli MVP perché l'ho tenuta in tasca qua per tutto il tempo Quindi oggi farò vedere delle novità che stanno qui da OBS e sono felice Ok, prima cosa mi sto comprando, mi ha comprato questa maglietta Vi faccio vedere che è super kawaii E va bene, poi ci sono altre magliette chiudissime Ecco questa è la collezione di questo mese di OBS E poi c'è l'altra cosa più bella dell'universo che adesso andiamo a vederla Ecco, per esempio, devo fare il giro perché ho trovato una cosa più intelligente e diverso Devo fare il giro perché sennò dopo si vedono le facce della gente E guardate cosa ho trovato Sono bellissime E poi ci sono i profumi, ma i temponi che ne vendono qua da OBS Poi ci sono quelli di Prozze, ma ho citato un cosiddetto in mele E va bene E bene, ecco, vedete ho i capelli strani E ok, ci vediamo ad un prossimo video E per il prossimo video Mini piccolo vlog Da OBS Ciao 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 Ciao